L'europeismo non è solo un tratto qualificante della nostra azione politica, ma è un tratto della nostra identità, del nostro DNA. La nostra radice è siamo europei prima di diventare come partito azione. Adesso bisogna fare un passaggio culturale importante, capire che le politiche europee non sono politiche estere, ma sono politiche interne. E questo non solo per un fatto tecnico, perché oltre il 70% della normativa nazionale non è altro che trasposizione di obblighi che l'Italia ha già assunto nelle istituzioni europee, ma per un fatto valoriale. Quando parliamo di Unione Europea non parliamo solo di integrazione di mercati, di concorrenza o di regole uniforme, parliamo di una dimensione di valori, di tutela dei diritti fondamentali, dello Stato di diritto. Pensateci bene, in Ucraina in questo momento si stanno difendendo le libertà e i principi di autoterminazione dei popoli. In Iran le donne combattono per chiedere più diritti, più libertà, più tutela dei diritti fondamentali. È possibile che la richiesta di quelli che sono i valori fondanti dell'Europa venga più fuori dall'Europa che non all'interno dell'Europa stessa. Noi dobbiamo riappropriarci di una dimensione valoriale dell'Unione Europea, spingere per il processo di integrazione europea, superando il veto e gli ostaggi degli interessi nazionali, e capire che l'unico modo per esercitare consapevolmente la sovranità nazionale è nella dimensione europea. Per questo, con azione, lasciamo il segno sulle politiche europee.